L'offerta di Sora di domenica pomeriggio per la terza giornata del campionato di Superlega. Ieri in esclusiva per Tef Channel, il centrale della Sir Perugia Emanuele Birarelli è stato ospite nel format del martedì sottorete e interamente dedicato alla squadra del presidente Gino Sirci. Dovremmo avere uno stralcio della programma di ieri. Un iniziale come questo? Sì, ovviamente siamo contenti dei risultati. Come avete detto voi, due vittorie su due per cominciare sono la migliore cosa. Qualche difficoltà c'è stata, ma penso anche che sia normale e soprattutto non la vedo per forza una cosa negativa dato che, come ben sapete, le grandi squadre devono anche un po' forgiarsi nelle difficoltà e la pallavolo è uno sport che ti riserva sicuramente delle difficoltà e il saper reagire a queste è importante. Quindi è vero sia Piacenza che in casa con Padova, qualche set è andato male e ce lo siamo lasciati sfuggire, ma l'importante è aver portato a casa i tre punti comunque. Continueremo a parlare di questa seconda gara al Isog. Grazie. 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 Grazie.